Cosa? Cosa? Scusami! 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 E non posso farla nemmeno vedere tutta, figa, sembra che l'ho piazzata io La cosa bella dell'hardcore è che ti puoi portare tutto il cibo che vuoi dietro Senza preoccuparti di tenerne da parte se muori, perché tanto se muori cancelli il mondo Ok, in questo momento mi servono legno Poi dovrei cercare una caverna perché mi serve ancora del ferro No, forse mi serve... Eeeh! Mi sono cagato addosso Ok, vi devo dire che è un coglione Eccoci qua Devo dire che questo punto è particolarmente strategico perché qua vicino abbiamo un oceano Che è utilissimo per fare farm di qualsiasi cosa che ci venga in mente In più c'è una ship lì Allora i tesori, c'hanno un solo problema, non si trovano Anche se tu trovi la mappa con la X e tutto Te comunque il tesoro non lo trovi perché è difficilissimo trovare il blocco preciso in cui l'hanno messo Sti figli di puttana della Mojang I libri sono utilissimi per l'Enchanting Table Ok, saccheggiamo l'altro villaggio Fienoclatch Babboon Nuovo Copper Avete presente l'altra volta che ti dicevo a proposito dello spazio nell'inventario? Ecco Devo dire che i passi nel gioco di Minecraft sono alquanto strani Perché a volte sembra che non hai nessuno dietro e invece c'hai un creeper che ti esploda nel culo A volte invece senti dei passi a caso e non c'è niente, sei stato tu a farli Ma non sai perché perché sono in ritardo di 6 ore e mezzo Nelle caverne ci sono due cose importanti da avere La prima è pazienza La prima è ovviamente uno scudo E seconda cosa Dovete avere anche un secchio d'acqua Dovrei avere il secchio Ecco qua Allora una cosa che vorrei prendere è anche della redstone Perché ci servirà molto breve Ho scoperto un nuovo metodo nella 1.18 Ovvero il compattamento delle risorse Let's go Compattare in questo modo le risorse ci fa sprecare meno spazio nell'inventario E fidatevi che all'inizio, soprattutto all'inizio, è fondamentale avere spazio nell'inventario Come avevo detto nello scorso episodio Queste caverne sono assurde Perché si ricollegano sempre o quasi sempre a un'altra caverna Per esempio io da questa parte sento qualcosa E infatti dopo poco ho già trovato un'altra caverna dietro a una caverna che avevo pensato fosse finita Cioè è assurdo figa È veramente enorme Qua è finita Però non sono sicuro che sia finita Cioè potrei anche trovarne un'altra scavando semplicemente tre blocchi in là Cioè è assurdo Non ho visto mezzo mob Oh qua già vedo la blackstone Diamanti non lo so Primi diamanti della serie Let's go E fammene trovare un po' di più Dai figa Che fa qua Due Tre Porca troia che cazzo di vena è Che cazzo di vena è Non ho mai visto una vena del genere Che cazzo di vena è Cosa vuol dire Cosa Cosa Scusami 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 Nooo E non posso farla nemmeno vedere tutta figa sembra che l'ho piazzata io 16 diamanti in una singola 16 diamanti in una singola vera Non ho neanche fortuna al piccone Pensate se avessi avuto fortuna Ed ecco la redstone Let's go Direi che questo inizio è stato scoppietante Scoppietante inizio Scoppietante Allora sotto terra Da quello che ho visto e notato E da quanto sto raccogliendo adesso Si trova Un botto di ferro È sconsigliato fare questa cosa Perché potresti tranquillamente venire fottuto nel culo Da Qualsiasi cosa Tra cui gravel Mostri che cadono Qualsiasi cosa che succeda È una cosa che sconsiglio a chi non vuole rischiare Se hai tipo tutti i diamanti dietro Non lo farei Se sei in un mondo hardcore Non lo consiglierei Però io visto che sono un coglione Lo faccio Ok Per ora torniamo a casa Mi servirà molta più redstone di così Torniamo a casa Abbiamo fatto una Avant scoperta molto fruttuosa Già state vedendo qual è La meccanica che voglio sfruttare Per fare i soldi Prima cosa da fare con i diamanti È un piccore Come tutti sapranno Chiaramente E la seconda cosa da fare Non è scontato È Uccidersi La seconda cosa da fare Con i diamanti Sarebbe un enchanting table Però una cosa che possiamo fare È una chest plate E questa è molto utile E in un mondo hardcore Diciamo che La prima cosa a cui bisogna pensare È la protezione Come nel sesso ragazzi Come nel sesso E abbiamo già una chest plate in diamanti Signori Easy as that Una delle cose che volevo fare È uno smelter automatico E quello che succede È che questi vengono smeltati E successivamente Erano posti direttamente qui dentro Lo so lo so E questa qui è un'automatic smelting Cosa E qua ne voglio fare un altro Quindi vado a scavare altri alberi Ok Alberillo Alberillo Questo dovrebbe essere una caverna Ma è stata generata un po' male Direi che questo episodio È finito abbastanza bene Abbiamo trovato un sacco di diamanti Quindi per oggi possiamo concludere Qua l'episodio E noi ci vediamo Col prossimo video Dove spero di riuscire a Sfruttare questo villaggio al meglio Ciao